... Ok raga, oggi abbiamo fatto la buona azione Stiamo dando un passaggio a questa fantastica amica, come ti chiami? Kamai 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 Scusa, scusa Che sta andando a Bologna, 2 milioni di follower, grazie a tutti Molto famoso Sfere e basta Giuro Sosa, sono famoso Sei davvero? Molto famoso Quindi chi canta, tu? Io canto, solo io Sono famoso? Mi chiedi? Sì, ti chiedo Sì, non lo so Complimentoni 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 Ciao 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 Alla prossima Grande Ciao Ciao Buon viaggio Ciao Ciao